Un gesto concreto per aiutare persone in difficoltà è lo spirito della giornata nazionale della colletta alimentare nell'iniziativa promossa dal Banco Alimentare. Anche al centro commerciale L'Aquilone, che è aderito all'iniziativa, erano presenti volontari che hanno invitato i cittadini a donare una parte della loro spesa a persone in difficoltà. Raccogliamo quei generi alimentari a lunga conservazione che possono essere poi distribuiti a delle persone che ne hanno realmente bisogno e invitiamo un po' tutti quanti a venire in questi centri oggi a fare questa donazione che è veramente importante a livello nazionale. I prodotti di cui c'è maggiormente bisogno sono olio, verdure, legumi scatola, polpa passata di pomodoro, tonno carne e scatola, alimenti per l'infanzia. Nel 2022 si sono raccolte 7.512 tonnellate di alimenti in totale con 4,7 milioni di italiani che hanno partecipato alla donazione e la speranza è fare sempre di più. Una volta che la gente vi consegna una parte della spesa voi che cosa fate? Noi la separiamo in cartoni in base al prodotto raccolto, lo pesiamo e lo portiamo nel magazzino che appunto è dedito a questa raccolta. Si riesce a raccogliere sempre tanto? La gente è solidale? Sì, la gente è molto solidale. Più di quello che si possa pensare ancora c'è gente caritatevole. Speriamo che ogni anno aumenti e quello che ci auguriamo è che quest'anno il numero delle donazioni aumenti.